Bentornati nella mia libreria! Oggi sono qui per mostrarvi un libro che è una bomba, una bomba di emozioni. Il libro in questione è... Finché il caffè è caldo, di Toshikatsu Kawaguchi. Scusate la pronuncia orribile. Questo libro è una bomba di emozioni perché tratta di tantissimi argomenti pesantissimi che solo i giapponesi sanno toccare con quella delicatezza data proprio dal Giappone e proprio da tutta l'Asia. Non solo i giapponesi, scusate, tutta l'Asia. Questo libro di che parla? Innanzitutto l'ambientazione è un caffè che però in realtà noi abbiamo il caffè. I giapponesi, parlo più per i giapponesi perché conosco meglio i giapponesi che l'Asia in generale, tipo la Cina, la Corea, insomma le più famose. I giapponesi hanno le locande. Sono tutte adibite a locanda, non sono proprio bar come i nostri. Ci sono anche i caffè, tipo i becchieri caffè o così e così, però sono più americanizzate, comunque oppure pasticceria giapponese particolare, come esiste anche a Roma, se non sbaglio a Milano, un caffè giapponese così, come vi sto descrivendo. Però solitamente ci sono tantissimo le locande, quello va di moda in Giappone. Questa è una locanda appunto, che serve caffè, diciamo più simile a una sala da tè, più che a un bar vero e proprio. Ci sono vari posti, tra cui ce n'è uno che è spesso, se non sempre, occupato da una donna vestita di bianco. In questo caffè accadono cose molto particolari, perché si può tornare indietro nel tempo. Ma ci sono delle regole ferree. Ad esempio, devi essere già stato in questa locanda, perché puoi tornare solo in uno dei momenti in cui sei stato in questa locanda. Una volta tornato indietro nel tempo, devi andare via prima di bere tutto il caffè ancora caldo, perché se si raffredda diventi un fantasma e rimani per sempre nella locanda. In più, se ti alzi dal posto in cui sei, ritorni subito nel presente. E poi, se vuoi viaggiare nel tempo, devi per forza essere in uno specifico posto. Non vi dico qual è. Ci sono altre regole, perché ne sono tantissime, ma la più fondamentale di tutte, che poi è quella che secondo me fa un pochino più male a tutti i protagonisti, è che se tu torni indietro nel tempo, qualsiasi azione tu compirai, non cambierà il presente. Ciò che è successo nel presente rimane così, invariato. Ad esempio, se una persona dovesse morire, anche se tu le consigli in tutti i modi di non fare quello per cui è morto, morirebbe comunque in un altro modo. Oppure, ad esempio, se si torna indietro per cambiare un'azione che si è compiuta verso una persona, ad esempio, che ne so, litighiamo con qualcuno e vorremmo riappacificarci, comunque nel presente continuiamo ad essere litigati con quella persona. È una storia molto molto profonda questa, che poi non è una storia in sé per sé, perché ha più storie al suo interno. Sono tutte, diciamo, mini storie però continue, perché si parla sempre della locanda e si va avanti nella storia, ma ci sono vari personaggi che entrano in questa locanda e che compiono azioni. Io trovo gli argomenti molto toccanti, cioè a me il finale ha fatto piangere, ha fatto piangere già una delle tante storie, ma il finale mi ha fatto piangere addirotto, è davvero toccantissimo e poi è bello, cioè mi viene ancora da piangere, ve lo giuro. Gli asiatici hanno quest'arte delicata di avere un tatto, un modo tutto loro di descrivere la morte, il presente, il passato, i rimpianti, la solitudine, il dolore. Hanno un modo tutto loro per sopravvivere e continuare nel loro percorso di vita. Danno tutta una vena romantica in ogni cosa che accade. Hanno una cultura stupenda, che noi abbiamo un po' dimenticato, perché sicuramente abbiamo due culture differenti, noi italiani, ma anche il resto del mondo dall'Asia, da sempre, dal passato. Però ci sono cose, ad esempio ci sono modi di vivere, per fare un esempio, il tema morte, loro ce l'hanno nel loro essere. Noi tentiamo un po' di dimenticare che dobbiamo morire un indomani, invece ad esempio nell'epoca vittoriana la morte era una tematica molto forte, perché sapevi di dover morire e quindi non ti facevi il problema, non ti ponevi il problema, anzi spesso ti compravi già le cose tu per il tuo funerale, dovevi disposizioni fin da giovane, perché il tasso di mortalità si partiva dall'infanzia, ma proprio dal bambino infante di qualche mese fino alla donna adulta, cioè si sapeva che si doveva morire, anzi era una novità vivere un po' più del tempo. Quindi loro invece questa cultura della morte, di averla sempre vicina e camminarci a fianco, ce l'hanno proprio nel loro essere e l'accettano anche in modo differente, in base a noi che comunque è un tabù, per loro non è un tabù ma è una tematica molto presente. Ci sono varie storie che io non voglio raccontarvele neanche una, perché sono un po' spoiler, perché sono tutte mini storie, diciamo, anche se come vi ho già detto è continua, nel senso che non è che da un passaggio ad un altro c'è un distacco, tipo una raccolta di racconti, è una storia continua. Vi dico solo la prima per capirci come è composto il libro. C'è una ragazza che è al tavolo con il suo fidanzato in questa locanda, stanno parlando di una cosa molto seria, e cioè il ragazzo in questione ha deciso, dopo anni di fidanzamento, di accettare un lavoro per l'America, che è un'occasione più unica per Rara, soprattutto per un giapponese che abita dall'altra parte del globo, per l'America, appunto, senza consultare la ragazza, gli dà direttamente la notizia che lui parte, e lei, convinta che lui non lo ama e che è un egoista, non gli dice di restare, non gli dice niente, gli dice solo ma come, ciò che mi stai dicendo, e finisce lì. Se non che lei pondera, pondera, e alla fine si ricorda che ha sentito che questa locanda ha la possibilità di farti tornare indietro nel tempo. Le ragazze al banco, le signore al banco, cercano di dissuaderla, e poi, quando lei vedono che è convinta a tornare indietro nel tempo, gli spiegano tutte le regole, e lei un attimo si ritrae, perché ne sono veramente tantissime di regole, però non se ne importa, lei è deciso a tornare indietro per sapere se avesse chiesto al ragazzo di restare, se sarebbe restato con lei. Gli spiegano questa cosa che nel futuro comunque non cambia, perché pure se lei gli dice resta e lui gli dice sì, resterò per te, comunque nel presente, scusate, nel presente la cosa non cambia, perché lui rimarrà comunque in America, come ha deciso di fare. Lei comunque tenta, va indietro nel tempo, e dice al ragazzo di restare. E cosa succede? Vi ho già detto praticamente tutto all'inizio su cosa penso io di questo libro, è stata una lettura molto piacevole, anche se straziante. A me piace il drammatico, piaceva molto di più da ragazzina, tipo film e libri drammatici a go-go, crescendo, avendo una consapevolezza un pochino più matura, sto iniziando a evitare un po' il tema drammaticità, perché mi fa molto male, magari una storia che da ragazzina, tipo vento di passioni per dircene una, che da ragazzina lo vedevo 20 volte al giorno a cuor leggero facendo Oddio no! Adesso mi strazia. E poi se volete una piccola parentesi, ho iniziato l'altro giorno con il mio ragazzo Squid Game, e mi sta facendo bruttissimo, ma male male, e solo un altro film mi ha fatto questo effetto proprio devastante, che io ho anche in DVD, ma che non riesco a vedere, l'ho rivisto solo una volta in inglese, e poi non l'ho visto più. Ed è 13 se perdi muori, se non sbaglio in inglese sarà 13, una cosa del genere, il titolo, quello con Sam Raimi, e in realtà ci sono molti attori famosi, ma adesso non mi vengono i nomi, scusate. Ma mi ha fatto talmente brutto e male, che sono rimasta scioccata. Bene, questo libro è un po' così, però io ve lo consiglio. Di questo libro c'è anche un secondo libro, sempre dello stesso autore, e ora ve lo mostro, e magari, se non è troppo spoiler, vi leggo anche la trama. Basta un caffè per essere felici. Questo è il secondo. A parte che le edizioni ci sono bellissime, vogliamo parlare del libro, in sé per sé è bellissimo, Garzanti ha fatto un bel lavoro. L'aroma dolce del caffè era già nell'aria fin dalle prime ore del mattino. Quando lo si avverte, è impossibile non varcare la soglia della caffetteria da cui proviene. Un luogo in un piccolo paese del Giappone dove si può essere protagonisti di un'esperienza indimenticabile. Basta entrare, lasciarsi servire e appoggiare le labbra alla tazzina per vivere di nuovo l'esatto istante in cui ci si è trovati a prendere una decisione sbagliata. Per farlo è importante che ogni avventore stia tanto a bere il caffè finché è caldo. Una volta che ci si mette comodi, non si può più tornare indietro. E così per Gotaro, che non è mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto come una figlia. Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla madre quando ne aveva più bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la fidanzata le ha taciuto una dolorosa verità. Okyoshi, che non ha detto addio alla moglie come avrebbe voluto. Tutti loro hanno qualcosa in sospeso, ma si rendono presto conto che per ritrovare la felicità non serve cancellare il passato, bensì imparare a perdonare e a perdonarsi. Questo è l'unico modo per guardare al futuro senza rimpianti e dare spazio a un nuovo inizio. Questa è la trama. Non è spoiler, vi dice solo i personaggi che ci sono e che cosa hanno in sospeso. Io comunque di finché il caffè è caldo sono felice di non avervi rivelato in realtà la storia. Anzi, vi consiglio addirittura se volete leggerlo di comprarlo così a scatola chiusa. Io ad esempio non ho letto la trama, ho sentito parlarne bene, lettura giapponese e ho voluto a scatola chiusa averlo. Questi sono i due che poi si collegano, se vedete. Guardate che belli. Cioè, due edizioni bellissime guardanti grazie, bellissime. Poi il costo è di 16 euro l'uno. Ormai i libri stanno diventando un po' eccessivi e un po' per benestanti, però è una bella edizione almeno, nonostante sia inflessibile. Io ve li consiglio perché sono sicura che il due è identico all'uno, perlomeno come modalità di scrittura. Quindi, ve li consiglio. Se piangete, chiamatemi che vi faccio sostegno morale come avrei voluto che fosse fatto a me quando ho finito questo libro e purtroppo non ho avuto perché non ho letto nessuno della mia cerchia. Per oggi è tutto. Io vi saluto con questi libri dalla mia libreria e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!